io sono davis e oggi sono felice di rivedervi ragazzi perché davvero da un po di giorni che non registro perché come sapete ho fatto ho pubblicato il video in premier e dove sono veramente felice siamo ancora oggi in cui ho ho preso il brawl pass infatti qua mi dice mi compensa che il brawl pass è preso infatti qua come sapete ho già fatto un po di cose e il resto ancora questo ci dobbiamo sbrigare perché comunque tra 43 giorni e 23 ore quindi poi dopo noi dovremmo ricomprare un'altra volta il brawl pass però comunque intanto qua noi andiamo ad aprire la cassa la cassa brawl vabbè niente brawler comunque come sapete io sto giocando a brawl stars perché nel sondaggio che vi ho messo su youtube avete risposto in tanti e su brawl pass il 60 per cento credo e il 40 per cento sul dl s 22 però state tranquilli che comunque quel gioco lo riporterò allora io direi subito di andare a fare una partita ragazzi vediamo un attimo con chi andare maxin si andiamo con maxin andiamo in due vabbè no perfetto perfetto ragazzi comunque grazie per queste persone che si stanno iscrivendo al mio canale perché sono veramente felicissimo siamo arrivati a 118 iscritti ragazzi sono veramente felicissimo adesso comunque sto già preparando un po di speciali in caso se arrivassimo ai 200 iscritti però ora cambiamoci un attimo sono appena arrivate ai 100 iscritti quindi non esageriamo ora bisogna fare le cose con calma abbiamo abbiamo avuto il brawl pass abbiamo fatto tutte queste cose adesso dobbiamo stare calmi e comunque scusate per l'altra volta che non sono riuscito a fare la live solo che tipo ho avuto dei problemi come come sapete un po di problemi di connessione quindi non sono riuscito a io bella odio perché fa è calma infatti perché tipo ciao fa schifo però solo che quando gli spatico ti prende un sacco di vita quindi bisogna avere un brawler in cui c'ha un po di cose allora direi che così non può andare quindi vorrei andare andiamo con leon perfetto stavolta però lo facciamo con sopravvivenza a vi voglio chiedere una cosa allora io qui come sapete io ho fatto un club già da quando aperto il canale quindi se volete voi vi potete scrivere il tipo su invito perché non vorrei che poi entrassero persone che non che non so chi siano che potrebbero fare dei casini quindi se volete entrare basta che me lo chiedete su su brawl pass e cosa è davix con il pollice in su quindi vabbè il nome del mio canale quindi perfetto adesso direi subito di andare vabbè facciamo in due perché tanto è pure un po più difficile perché comunque ci sono le squadre e vabbè comunque allora perfetto andiamo subito comunque vi posso dire una cosa allora e io forse mercoledì potrei caricare un video sul dls 22 resto vedo perché quel sondaggio era per lunedì quindi oggi e non quindi io rispetto il sondaggio per oggi quindi io ecco qua che memoriamo aspetta un attimo ma io ecco è mio è mio ecco ok l'ho ucciso io perfetto no non ho male ok comunque ci sta leon che comunque è abbastanza veloce non è che ci mette tanto per ecco il barile mettiamo un po' invisibili sta finire la cosa ma se no il barile prende un po' di di vita eh mio 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 ah yeee non pensavo di arrivare nello scontro finale subito eh perché il primo momento se ci vediamo con delle persone abbastanza forti potrebbe essere eccola là potrebbe essere un bel problemino quindi intanto il primo visto che è da vicino lo possiamo pure uccidere così il nostro ah la sua mossa oh l'ho ucciso oh raga sta a fa un sacco di kill eh perfetto ahiaiaiai comunque ho visto che girando su brawl pass un po' ho visto che a metà tipo di brawl pass mi danno oh ma ho ucciso tutto tutto io non ho fatto niente vabbè però comunque allora ragazzi andiamo usciamo dalla cosa comunque non so se l'avete visto ma ho preso pure una nuova intro che secondo me è molto carina non non vorrei dire però comunque ehm ditevelo se semmai uso brustarts ditemi se non vi piace semmai la cambio però ora cosa comunque state tranquilli che non so se lo sapevete ma io ho lo speciale 100 iscritti ho mostrato la faccia quindi scusate se sto facendo questi video senza far vedere la faccia però solo che ehm io di solito gioco da da telefono però comunque potrei pure giocare da computer tanto vedo un po' che giochi ci sono sul computer però comunque credo che ci siano dei bei giochi sul computer quindi ehm andiamo subito a a vedere un po' siamo ancora in cinque vabbè ben inizia della partita ragazzi qui mi sa che ci sa qualcuno perfetto comunque io credo che boh è abbastanza forte non è perfetto sono morto proprio quello che volevo vabbè se vogliamo ora non importa perché tanto non non credo sia un problema mannaggia loro ma porca oh che cosa mamma mia c'è meno c'è guarda la fortuna che abbiamo avuto oh ma la fortuna che abbiamo avuto ragazzi oh iaiai mannaggia loro mannaggia mamma mia porca la miseria ma non ci posso credere raga per ora io il mio il mio alliato entra ma non ci posso credere ok ragazzi allora allora aspettate dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi ma nulla non è possibile non è possibile guarda qui che ci sta ucraina perfetto oh la sfida tra orsi ah pure lei è abbastanza fortina cioè non è e questo colpo tipo mi hanno cesso un sacco di persone così quindi ancora un altro orso no ecco perfetto allora ragazzi ci vediamo in lobby ok ragazzi ma eccoci in lobby io l'idea è che questo video può finire qua sono veramente felice di di aver fatto questo video e vi ricordo iscrivetevi al canale mettete la campanina e lasciate un bel like per darmi il supporto ciao ragazzi